Come vi chiamate? Giorgio Gaber Che cosa facevate? Cantavo La libertà non è star sopra un albero Penso che Gaber cambi la vita a chiunque lo ascolti, no? Sicuramente a me Gaber mi ha insegnato a essere più interprete e quindi a cantare le parole Libertà è partecipazione Ma per fortuna che c'è il Riccardo che è da sola L'ho avvicinato, gli ho detto se vieni E farò un contratto per la Riccordi Però non è venuto lui E gli ho detto ma perché non sei venuto? Perché pensavo fosse uno scherzo La vera trasgressione è la fedeltà Mi mancano molto le risate Io ho la fortuna di avere veramente milioni di ore di filmati, di foto Di destra e sinistra Sono preso per il culo Formidabile E ti veniva voglia di aggiungersene, no? No, non fa male Credere Fa molto male Credere male E poi ad un certo punto Io non mi sento italiano Ma per fortuna purtroppo lo sono E mi chiedo oggi Cosa avrebbe potuto scrivere, dire, cantare? Era un uomo libero Ma senza retorica Quanto dovesse essere anche difficile Per lui Essere così libero Io mi chiamo G Sei tu che non hai capito Mi chiamo G anch'io Buonanotte 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 Grazie a tutti